Allora mi dicono che la cosa migliore è dar l'impasto ai maiali, bisogna affamare i maiali per qualche giorno, ma poi la vista di un cadavere a pezzi gli sembrerà come un ghiacciolo nel deserto, bisogna rasare la testa della vittima ed estrarre i denti per il bene della digestione dei maialini, si potrebbe fare anche dopo ovviamente, ma non è bello rivistare nella merda di maiale, vi pare? Quelli si spazzolano le ossa come fossero burro, ci vogliono almeno 16 maiali per completare l'opera in una seduta, quindi non vi fidate di chiunque vi dica che ha un allevamento di maiali, finiscono un cadavere che pesa diciamo per esempio 100 chili in non più di circa 8 minuti, questo vuol dire che un solo maiale può arrivare a consumare un chilo di carne umana cruda in un solo minuto, da qui deriva l'espressione essere avidi come un maiale.